è in effetti un avallo smaccato, quasi ti torna come un cacio sui maccheroni. E cioè, Dal Forso sostiene nel libro che Milano non abbia mai avuto, mai, così come appena detto anche a voce, la vocazione al capo, inteso come una sorta di investitura abeterno. Però è anche vero che il sindaco di Milano ha la necessità e anche la vocazione invece a essere interpellato come un'autorità che non è nascosta ma come un'autorità insomma competente. Mentre invece il sindaco di Roma è stato fatto fuori senza che nessuna assemblea politica o democratica ne decidesse la sostituzione. Grazie.